Buonasera a tutti, ciao Rinaldo, ciao Erpavi, siamo a casa di zia Lucia che sono io. Purtroppo questo cagnolino ieri è stato abbandonato vigliacamente sulla migliara 48. È un cucciolone, è ancora piccolo, è molto gioioso come puoi vedere. Però oggi, ieri l'ho lasciato da mangiare e lui si è fermato lì. Purtroppo, vieni piccolo, vieni, fatti vedere. Lui però purtroppo oggi pioveva, piangeva come un bambino. Io non ho avuto proprio il coraggio e la forza di mollarlo lì. L'ho portato qui a casa mia per qualche giorno. Veramente non è casa mia. Il problema è che noi qua abbiamo sette cani, cinque dei cani abbastanza grossi eppure aggressivi. Purtroppo va cercata una famiglia per questa bestiola. È molto, ripeto, è molto gioiosa. Adesso non si vede bene perché piove. Vieni piccolo. E come ti dicevo, caro papi, noi adesso lo terremo qualche giorno, però non lo possiamo adottare. Anche se mi sta tanto simpatico. C'è un musetto che è una cosa meravigliosa. Ed è molto giocherellone, buono con tutti quanti. Vedi un po' se mi puoi aiutare, se tra gli amici qualcuno potrebbe essere così carino da portarsi a casa sto gioiellino. È veramente un cane carino, carino, carino in tutti i sensi. Te ringrazio papi, un bacione, a sentirci presto. Ciao, ciao dal nostro cagnetto. Ciao. Ciao.